Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale Paradisi Artificiali. Io sono Giulia. Oggi faccio questo video tag in quanto sono stata taggata da Rita, del canale Rita64, a cui mando un bacio e che ringrazio. Il tag è stato ideato da Simone Ruocco, del canale omonimo Simone Ruocco. Vi lascerò sotto in info box il link al video di Simone e il link al video di Rita. Questo video tag tratta della scelta del proprio king della propria collezione di profumi, quindi quel profumo che è il re di tutta la collezione. Trovo questo tag molto originale e minimalista perché appunto fa un po' pensare a quel profumo che non può mancare, quel profumo che appunto come un re esercita il proprio potere in modo veramente forte. Io vi faccio vedere quale ho scelto. Il re della mia collezione di profumi è Experimentum Crucis di Etalivre d'Orange. Di questo profumo me ne avete sentito parlare più volte. Ho fatto anche una recensione solamente su questo profumo, quindi magari ve la lascio sotto il link al video in cui parlo specificatamente di questo profumo. e anche appunto in quel video io dal primo momento appunto ho definito questo profumo spirituale per me. Come un po' una volta nell'antichità i re si pensava che avessero anche poteri divini, quindi questo è il king della mia collezione con potere divino proprio. è un re a tutti gli effetti. Anche perché al suo interno ha una nota forte di rosa, la regina dei fiori, quindi questo non poteva che essere questo il mio profumo re e regina della collezione. È un profumo che veramente mi trasmette una sensazione magica, molto potente. veramente è quasi, mi comunica davvero qualcosa di misterioso ecco questo profumo. Mi porta in alto, è molto meditativo, è veramente un profumo che io ritengo divino, divino per proprio quello che mi trasmette. Abbiamo questa rosa che è molto intensa, all'inizio è tagliente, è una rosa particolare. Mi viene ad esempio in mente se dovessi associarla a qualcosa di spirituale, dell'ambito della spiritualità, alla vocazione delle suore, che vivono le suore. Mi è capitato più volte di sentire parlare le suore, alcune suore che ho conosciuto, della propria vocazione, che è stata quasi appunto una cosa sconcertante. forse non del tutto improvvisa perché comunque si sta su un cammino, però qualcosa che ti dà una visione chiara di quello che deve essere la tua vita e il tuo futuro. Questa rosa che appunto appare in questa fragranza in modo così deciso, mi fa venire in mente questo, un po' per le mie esperienze di vita, cioè come un racconto appunto di cose che ho sentito in passato. Però ecco, questa sensazione chiara e netta di dove si vuole andare e appunto nella spiritualità in questo caso, per cui è un messaggio che è forte, chiaro, ma allo stesso tempo misterioso, perché appunto la spiritualità è un mondo a parte, no? Un pochino non così visibile, ecco. E' veramente un profumo molto deciso, ma che poi dopo questa sferzata iniziale veramente molto incisiva, arriva una parte, subentra una parte di dolcezza, di morbidezza in questo profumo. Abbiamo delle note di miele, di fava tunca, di paciuli indonesiano, quindi rendono questo profumo molto morbido, affascinante. E' un profumo magico, magnifico, veramente grande è la sua potenza. Questa rosa è maestosa, è presente, è un profumo veramente divino appunto. Anche nei colori vediamo questa boccetta color blu, il blu è il colore della spiritualità, e anche l'oro è appunto un colore legato al divino, a qualcosa di alto. E ho associato questo profumo a questo libro che ha gli stessi colori, appunto blu e oro, ed è un libro di Yogananda, filosofo e mistico indiano, che appunto si chiama Meditazioni Metafisiche. E' proprio per sottolineare la spiritualità che mi trasmette questo profumo. E io penso che l'essenza della spiritualità sia il silenzio. E in questo libro vi voglio leggere una frase sul silenzio. Il mio silenzio, come una sfera in espansione, dilaga per ogni dove. Il mio silenzio si propaga come un canto, diffuso via radio, in alto, in basso, a sinistra, a destra, dentro e fuori di me. Questa frase racchiude la potenza maestosa di questo profumo per me. La sua spiritualità che in un certo modo mi passa. Quindi io ho terminato questo video. Sono veramente contenta di aver eletto questo profumo come il king della mia collezione. Voglio taggare Ornella del canale Selvaggia Bellezza, Raffaella del canale Parfumaniac e Loretta del canale Note di Profumo. Quindi ragazze, se vi va di fare il tag, mi fa piacere, altrimenti non c'è problema, perché insomma mi piace, come dico sempre, lasciare libere le persone. Quindi ecco, è un tag che comunque rimane aperto per chi volesse farlo. E nulla, io ho terminato. Grazie di essere stati con me, vi mando un grande bacio. Grazie. Grazie.